buongiorno a tutti benvenuti in questo video tutorial che il primo tutorial riguardante la mobilità 2024 2025 che partirà per la presentazione della domanda da domani 26 febbraio 2024 fino al 16 di marzo 2024 dunque ci saranno tre settimane di tempo per poter compilare la domanda intanto in questo tutorial vediamo la novità di quest'anno cioè l'allegato g l'allegato g e quell'allegato che va compilato obbligatoriamente per coloro che si trovano in uno stato di vincolo della mobilità e per effetto del contratto collettivo nazionale integrative dell'ordinanza ministeriale numero 30 firmata il 23 febbraio 2024 da la possibilità ai vincolati per delle ragioni ben specifiche delle deroghe di poter essere svincolati dunque per andare a scaricare questo modulo dal dalla pagina del ministero dell'istruzione del merito basta scendere verso il centro della pagina fino a trovare l'icona della mobilità scuola che vedete qui in basso sulla destra questo quest'icona fare clic su quest'icona si entrerà in mobilità del personale docente educativo eata dal dell'anno scolastico 2024 2025 ordinanza appunto ministeriale numero 30 del 23 febbraio 2024 e si avviano così le procedure della mobilità che ripeto per il personale docente la domanda va presentata come vedete scritto qui dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024 scendendo in più in basso troverete il personale educativo che potrà presentare la domanda dal 28 di febbraio 2024 al 19 marzo 2024 tutte queste procedure vengono diciamo compilate su istanze online per il personale ata pure compilata su istanze online va dalla procedura della compilazione la domanda va dall 8 marzo 2024 il 25 marzo 2024 l'unica categoria di docenti che dovrà presentare domanda in modello cartaceo sono gli insegnanti di religione cattolica che potranno presentare appunto in via di modello cartaceo dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024 a questo punto per vedere quella legato giri di cui vi dicevo prima basta andare alla voce autodichiarazioni cliccare dunque sulla destra su autodichiarazioni vedete sulla colonna di sinistra tutti gli allegati utili per la pubblica scaricare compilarli per allegarli poi alla domanda di mobilità al numero 10 la decima autodichiarazione è proprio l'allegato g che è per il personale docente poi c'è l'allegato g per il personale ata riferito ai ds g a beneficiari delle deroghe per poter fare domanda di mobilità perché le deroghe si applicano sia al personale docente ma anche ai ds g a cliccando sull'allegato g appunto si andrà a scaricare il documento dell'allegato vedete si allega e poi si scarica ecco dunque l'allegato g in formato editabile word che si può compilare con estrema facilità chiaramente ci sono tutte le deroghe del diciamo che vengono applicate al contratto collettivo nazionale integrativo di mobilità voi dovrete scegliere quella per cui avete diritto per esempio chi è genitore di figlio di età inferiore a 12 anni potrà evidentemente collocarsi in questo tipo di deroga oppure chi si trova in una situazione di disabilità personale articolo 21 oppure articolo 33 comma 6 potrà riempire questo indicare questa a deroga ancora chi invece si ritrova con altre situazioni come per esempio quella di fruire dei riposi dei permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 2001 la 151 per esempio chi va in congedo straordinario per assistenza ai genitori potrà compilare questo che può essere riferito non solo ai genitori ovviamente ma il coniuge oppure che riveste la qualità la persona di figlio convivente per diciamo prendersi cura e assistenza dei genitori ecco si può compilare questo alla fine si deve firmare sotto la propria responsabilità questa dichiarazione e allegare alla domanda perché questo consentirà al docente che era vincolato di essere svincolato e poter presentare istanza chiaramente questa auto dichiarazione che va siglata ai sensi del dpr 445 del 2000 serve proprio a dare la possibilità di presentare poi istanza speriamo che questo video tutorial sia utile soprattutto ai docenti vincolati perché questa dichiarazione diventa obbligatoria ai fini dello svincolo perché senza questa dichiarazione la domanda non verrà presa in esame arrivederci e al prossimo video tutorial